È un problema di sicurezza per la viabilità, quello denunciato dai residenti di via Collegiliato e Germinaia, che ogni giorno percorrono il tratto di strada che da Villa Cappugi raggiunge il paese, disseminato da buche, margini della strada pericolosi, segnaletica rasa al suolo. Quali sono le difficoltà maggiori che trovate per raggiungere il paese? Le difficoltà maggiori sono rappresentate da un profondo avvallamento prima del cimitero di Germinaia, e in generale dalla scarsa manutenzione della strada in questo tratto. Il tratto successivo che va da Germinaia a Corsini purtroppo non è stato oggetto di asfaltatura come invece quello ancora successivo da Corsini a Pistoia e quindi le macchine ci sono buche continuamente. Poi devo parlare della segnaletica che a partire da Villa Cappugi, da Via L'Italia ci sono ancora le indicazioni se c'è un ospite a Villa Cappugi e adesso bisogna andare all'ospedale, ci sono ancora le indicazioni che entra all'ospedale in Viale Matteotti, questa mi sembra un'osa assurda. E poi salendo su c'è il piano di buche nella strada, c'è un punto adiacente alle ville Sbertoli che quando c'è l'erba alta non si vede dove finisce la banchina. E praticamente lì uno c'è il rischio che possa andare a finire sotto strada, come è successo. Senza contare poi i dossi, le varie buche ci sono là per tutto, le piante tagliate e lasciate lì, senza contare i cartelli. Ci sono cartelli stradali dall'ultimo vento che è attirato, sono sempre sdraiati in terra. Al parcheggio, il parcheggio sulla strada per andare verso Iano, c'è il cartello indicante il parcheggio, è in una fossa. Il cestino della spazzatura con l'ultimo vento, oppure non so se è colpa dei vandali, comunque è giù per la scarpata, è una cosa vergognosa. Prima della curva della chiesa ho visto una perdita d'acqua che si riversa sulla strada, è una cosa ricente? Non c'è soltanto una perdita lì, è tutto struito perché ci dovevano fare dei lavori di messa, di tombare tutto il pezzo che è acqua superflua e perché c'è poi la fossa che scende giù e va a finire verso Val di Brana. Quindi anche quella cosa lì è una cosa già preventivata dalla parte dell'amministrazione. C'è un punto che se non succede un qualcosa di brutto nessuno prenderà provvedimenti seri. Grazie a tutti.